Altro giro, altro tentativo. Il Consiglio Comunale di Sciacca è stato convocato per mercoledì prossimo alle ore 20. Lo ha deciso questa mattina alla conferenza dei capigruppo dopo le due sedute andate a vuoto in questa settimana. Amministrazione e maggioranza provano dunque ad approvare il ripiano del disavanzo di amministrazione prima delle festività natalizie. Appare scontato che la seduta slitti è giovedì 20 dicembre in seconda convocazione. Intanto in relazione alla vicenda della stabilizzazione degli LSU dall'Assemblea regionale siciliana arriva la proroga per i comuni in dissesto o per quelli come Sciacca che non hanno provveduto in tempo utile all'approvazione dei documenti contabili. Tutti quei comuni, oltre quelli in dissesto, quindi non è il caso del Comune di Sciacca, ma tutti quei comuni, e qua rientra il Comune di Sciacca, che non sono in regola con gli addendimenti finanziari, ovvero che il Consiglio Comunale, il quale non si è espresso, come è successo nel Comune di Sciacca qualche giorno fa, insomma è cronaca di questi giorni il fatto che il Consiglio Comunale non abbia avuto la maggioranza e quindi non si sia potuto esprimere sui documenti finanziari, anche per questi comuni, grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle, i precari sono salvi, ovvero hanno avuto la possibilità di stabilizzarsi, avranno la possibilità di stabilizzarsi per tutto l'anno 2019. Quindi una proroga dei termini per quanto riguarda gli addendimenti che aveva anche il Comune di Sciacca nei confronti dei precari. Una notizia positiva anche se l'amministrazione sta tentando comunque entro la prossima settimana di portare nuovamente il punto in Consiglio Comunale. Questo è giusto perché comunque a prescindere da quelle che sono le operazioni che noi abbiamo portato avanti in questi giorni durante la variazione di bilancio e l'Assemblea regionale siciliana, è chiaro che il Comune deve muoversi indipendentemente e fare tutti gli addempimenti. Non occorre aspettare che sia proprio l'ultimo mese dell'anno 2019 per stabilizzare doverosamente questi precari che ormai attendono da troppo tempo questo passaggio.